Ciao ragazzi e dunque benvenuti nelle provabili formazioni di Cagliari-Juventus, allora sicuramente sarà a mio avviso una Juve molto ridimensionata, molto molto turnoveristica diciamo, non so se esiste il termine turnoveristica ma rende l'idea, allora secondo me in porta ci va Gigi Buffon, la linea difensiva sarà formata da Wesley che debutterà in prima squadra, Bonucci, Lugani al posto di De Ligt che così potrà tranquillamente riprendersi dalla botta alla spalla e Dani Milou al posto di Alexandro, poi il centrocampo secondo me vedrà ancora Pjanic, dobbè Pjanic, maledizione eccolo qua, Ramsey e Muratore al posto di Rabiot, è in attacco, secondo me io tolgo Ronaldo ma perché secondo me è lui che lo chiuderà, è lui che chiederà di non giocare, sarò strano ma secondo me sarà così e l'attacco potrebbe essere Zanimacchi e Iguaino-Olivieri, non mi stupirebbe questa soluzione, altrimenti in attacco secondo me Olivieri comunque giocherà ma giocherà Bernardeschi, quindi Bernardeschi e Iguaino-Olivieri, ma secondo me Olivieri gioca. Questa secondo me è la formazione della Juve, fatemi sapere la vostra e ci vediamo domani sera per il post partita, ciao!